Ciao a tutti ragazzi, come al solito sono Frank e oggi sono qua per questo nuovissimo video E oggi siamo qua su un giochino che, insomma, cioè, insomma, cioè, insomma, e dai su, e dai su, non fate finti che l'avete già indovinato Ecco appunto, siamo al gioco delle morti, si chiama Battlefield Headline, ma, ma, io non potevo andare da solo perché, insomma, cioè, quando voi entrate in banca Sapete bene che i prelievi vanno fatti insieme a qualcuno, qualcuno che vi aiuta a, insomma, chiedere un po' più di soldi rispetto al normale Quella persona inizia per F e finisce per Aenix Revenge e niente, proprio di meno che lui, Fenix Grazie a Franky per avermi aspettato nel suo canale Perfetto, adesso puoi pure andare via Perfetto, allora, adesso dobbiamo, insomma, fare questo giochino che, appunto, si chiama Battlefield Headline Perché? Perché questo gioco ti vengo a rianimare in 05, eh? Ma tanto, c'è uno dentro la casetta e fa piano A me non me ne frega niente, vado come, non so cosa Mi mancava un millimetro per rianimarti Uno, uno, stavo con la siringa in mano Cioè, proprio lo devi vedere, stavo con la siringa in mano Eh, vabbè, insomma, eh, senti, eh Non parliamo di queste problemi che, che poi, insomma, io parrabbio, eh Divento un po' perfido Guarda quello, guarda quello, mamma mia Alessandro, dove sei? Dove stai? Allora, capite bene che Battlefield non è proprio il giochino, insomma, solito Anzi, non è proprio il giochino tattico che era una volta Adesso è tutt'altro, adesso è proprio divertiti Salta, spara, gioca addirittura Incontra con gli appunti a pompetta e rompere il cazzo e volessi attaccare al muro Soprattutto Cioè, siamo arrivati ai livelli di divertimento, quasi Cioè, persino Alessandro, cioè, che, se non lo sapete, è noto recensore di videogiochi Insomma, ha una sua testata giornalistica che si chiama, appunto, testa di gioco E lui, appunto, che cosa fa? Esprime i suoi pareri sui giochi E, Alessandro, insomma, siamo tutti proprio, ti pendiamo dalle lab Cioè, che cosa, cosa ti rappresenta questo gioco sibaritico? Per me, è molto franchiano Bene, questo era l'esatto commento che noi volevamo Cioè, proprio, no? La sibariticità che è presente all'interno di questo video, proprio si vede Io ho appena ammazzato uno con un colpo alla testa, senza mirare Devo rianimare questo, amico Ah, senta, ti sono detto di te Ah, hai visto l'ho rianimato? Hai visto, sì? Vai, fai, follow me Guarda, c'è il fuoco nemico Ci penso, mamma mia, quanto uno è forte Vai, basta sul fuoco, tanto fregate Ma, ma, sto fuoco non fa male, perché il fuoco blu è quell'amico Io pensavo che era quello speciale che ti scorda Ah, ecco che Vabbè, abbiamo svelato, pensate, un altro mistero E che dire, un applauso per il nostro simpatico ragazzo in prima fila Bravo, bravo Ecco, a posto Allora, dobbiamo, lo scopo di questa modalità Per chi ancora non l'avesse capito, eh Perché, insomma, secondo me era un po' evidente Poi fate un po' voi Bisogna prendere, in caso siete dei ladri Il bottino, come è giusto che sia E portarlo nei vari punti Mentre, se siete la polizia Dovete impedire che i ladri, appunto Ladrascano, ecco Ladrascano Adesso guardate che cosa sto per fare Questa si chiama Zip Line E ci permette Ci permette di morire un stile Voi dovete capire, no? Che nel gioco Trovate delle persone perfide Ma queste sono l'incarnazione Infatti adesso sto per chiamare il servizio tecnico Come ormai già voi sapete Eh, lo Yes Adesso, this gioco Is very Is very Insomma Esatto, it's very puttanato Cioè, molte persone perfide Yes Hanno ucciso My amico Fenix Allora, adesso guarda Ma non è stato Ma non è stato Ecco, visto No, vabbè, inciò a parole È bruttissimo Perché te vedi tutta l'animazione E te non puoi fare niente poi Non so Ma poi mi fa vedere il manganello Cioè, è pure brutto detto così Guarda qua, questo qua c'è pure lo scudo antitomossa Ma che cazzo Ma ci penso io Scuso antitomossa Vedete dove gli finisce Diventa la parte integrante della sua schiena Poi dice pacco rilassato Eh, insomma Eh, proprio se tu stiamo tenendo Dobbiamo recuperare i pacchi Ehi, la Quindi, insomma Cioè È perché, insomma Andare a recuperare i pacchi È No Cioè, insomma Guarda, guarda il pacco Aspetta un attimo Che lancio il granate a cazzo Perché mi piace Ho il pacco, adesso Adesso ho il pacco Eh, sì Sali sul tetto Quello hai detto Te lo faccio vedere Ecco, no Non sali sul tetto Non sali sul tetto Qualsiasi cosa Porca miseria, oh Si sono messi lì davanti al buco Con il mio pacco Mamma mia Eh No, non dite che ci sono doppi sensi Perché veramente Guarda Mi sembrate Persone malefiche Che si mettono A pensare così Allora Quanti anni avete Eh Insomma Il pacco Lo sapete bene Cos'è È un pacco pieno di soldi Allora Dobbiamo andare No, dove sta l'altro pacco In casa di Frankie Era un pacchettino Allora Innanzitutto Al massimo Era un pacchettone Perché arrivava fino Fino a date A Palermo Senti In realtà Le gestisce Guarda La Fenix Ma questi sono Questi sono dei camper Si sono messi Tipo Dietro Allora Alessandro Se io ti dico che ho visto una cosa Che tu quando la vedrai Direi Ma non ci voglio credere Io ti farò ricredere Su un autobus C'è la pubblicità di Deft Deft Eh Cioè È presente tipo Gli autobus Gli autobus in fondo Sì sì Gli autobus in fondo C'hanno la pubblicità A Roma Ma che a Roma Qua sul gioco A Roma Guarda The Lansion Journey Home Cioè Magari non è proprio Un riferimento Diretto Però Insomma Lo squalo fatto così L'ho visto solo su Deft Dov'è? Dov'è? Fammi vedere Sta Vicino Aspetta Adesso non ti rispauno Adesso te lo dico Te lo faccio sapere Ti chiamo E ti faccio sapere Ecco Allora Guarda Adesso io spawnerò Anche un attimo Non morirci Perché devo Spannare Guarda Spannò su di me Aspetta dai Cazzo Mentre te sbrighi Di cosa è merda Dai Cazzo 3 secondi 3 secondi Attenzione Eccomi Ok Allora Buttati qua sotto Dove sei Batte forana Oh non te vedo più Ah ok Giù 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 Guarda Guarda qua E ora non dimmi se non è Deft Giù un attimo Non è Deft Crettino Ma si Vai Vieni Vieni Dobbiamo andare a portare il pacco Il mio Non ce la fai Dopo pesante Eh senti Allora Cominciamo Insomma Guarda questo come ci muore Mamma mia Ho fatto Mesa doppia Oh ci sono uno Oh my god It's triple Gli mlg montage Guarda Oh vieni ci voglio Crede L'ho ammazzato Vabbè Perché Ma che cazzo Io dico no Su questo gioco Uno come si fa a chiamare colt Cioè Capisco Cioè è una persona colt Quello c'ha la 44 magnum De shot Oh quello c'ha la 44 Non ce voglio credere De cazzo Sì Te immagino Quanto ce l'hai Eh beh 44 Ma come centri No chilometri Mazzata Allora considera che Forse stiamo per vincere Perché sento la musica Perché voi dovete capire Che su tutti i battlefield Hanno fatto che Quando la musica Inizia Ecco Quando faceva la musica La gente perde Comunque Purtroppo abbiamo perso Perché siamo delle pippe Però potete vedere Una partita che ha avuto Un finale leggermente migliore Nella descrizione O magari qui in qualche parte Qualche annotazione Perché Trovate Purtroppo Anche Fenix In questo video Quindi potete Insomma passare Nella sua link In descrizione Trovate un sacco di video E insomma Io vi ci consiglio Perché insomma 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 Vabbè dai Insomma Vabbè dai Insomma E Fenix vuole dire qualcosa Beh vedete E lui è proprio commentatore Commentatore proprio Dalla nascita Ricordo che c'è la sua testata Giornalistica Ovvero testa di Fenix E nulla Io spero che questo video Insomma Un po' particolare Vi sia piaciuto E nulla Noi ci vediamo Al prossimo video Come sempre Dretto per dritto In culo Beh beh